il mio allenamento... bravo poi mi sa che come te sarà vent'anni che non faccio più musica anche ho più si è forte io sono solo due mesi è una vita, forse l'ultimo ho fatto oltre al delle nazioni o addirittura al mondiale ai tempi è una vita veramente no, no, io... in gare sociali ogni tanto oggi ma non peccato ma è un caso è un caso anzi è come la mia, la faccio io ma la torna anche Andrei da parlere cazzo ogni tanto capita che torna indietro da sola ma dove cazzo vuole lei più che altro io quando correvo mi dicevo ma che parte passa qua? dipendi dove va la ridonanza dove decidi lei? è lì stesso vedi che bisogneria passare da lì però dipendi dove va la moto uno non l'hai messo no perché io da qua ho visto che hai calciato qua la gamba ma non l'ho visto quindi zero, va bene ha giudicato no perché lì mi fido di più di... da qua non lo potevo vedere perché quindi va bene va bene lo zero guarda il filmato che abbiamo là è vero che c'è anche la moviola poi eh dopo a casa li riguardiamo vai stai la fai alta o la fai bassa? no tu fai verde puoi farla alta puoi farla bassa eh sicuro? ma io se puoi girare anche da tre no? il verde può farla sia lì e sia di qua si loro si loro basta che non passi nelle porte vabbè io vado pure si si puoi girare dove vuoi no l'abbiamo lasciata di proposito libera vai ok 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 vai entri ok ok ah pazzarola giù 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 vieni qua a fare il giro ti serve che il seguidore? porca notta forte eh vieni qua due due vai stai vai dai stai con calma eh stai con calma eh un bel recupero bel recupero gotta do desti anche giusta ma estruerto troppo mole vabbè irrolese tipo pon no as t c Grazie a tutti.